Oggi siamo qua a festeggiare il sessantesimo di compleanno di quest'Avis, è una delle più vecchie della provincia di Bergamo e anche quelle che hanno fatto la storia della nostra associazione. La storia che però deve avere una continuità e quindi non è un punto d'arrivo sicuramente questa festa, ma è un punto di partenza dove andremo a ufficializzare quelli che sono gli importanti progetti che stiamo concretizzando proprio qua a Clusone perché è di investimenti e di sicuramente realizzazioni che impegneranno tutta l'associazione nei prossimi due o tre anni, ma sono sicuramente da collante per tutte quelle che sono le Avis del territorio e del circondario di Clusone. Credo sia stata un'importante conquista questa, quella di andare a riorganizzare una raccolta che comunque vede la Valle Seriana investita di responsabilità per quello che è la collettività e quindi credo che sia proprio oggi il giorno per ufficializzarlo, dichiararlo davanti a tutti e quindi fare doppiamente festa.